Resto di parlare il senatore Bagnai, ne ha facoltà. Grazie, Presidente. Ringrazio i relatori e tutti i colleghi intervenuti in discussione generale per aver reso appassionante, almeno nei toni se non nei contenuti, che qualche volta erano inesistenti o inconferenti, una discussione che per un economista ha pochi motivi di interesse. Grazie, come mi accingo a spiegare rapidamente ai cittadini che ci ascoltano. Questo perché il DEF, il documento di economia e finanza, è solo uno dei tanti atti, il meno significativo, di quella complessa liturgia che va sotto il nome di semestre europeo, introdotta nel 2010, in piena crisi dei debiti sovrani, con il nobile scopo dichiarato di coordinare le politiche economiche europee, ma in realtà qualcuno sostiene per commissariare surrettiziamente i Paesi che erano o che si voleva finissero in crisi. Coordinamento non ci fu e di questo se ne lamentò il senatore Monti quando in una nota intervista alla CNN disse che lui aveva ridotto, tagliato la domanda interna del Paese aspettandosi che gli altri facessero crescere la loro. Otto anni dopo stiamo ancora aspettando. Le valutazioni scientifiche su questo strumento di coordinamento sono ancora aperte, ma una cosa è certa. Uno degli effetti del semestre europeo è quello di tenerci qui a discutere sul nulla o, peggio ancora, di costringere il dibattito sulla politica economica del Paese all'interno di un quadro di riferimento insensato, perché manifestamente fallimentare, quello delle politiche di austerità. Questo quadro di riferimento è fallimentare, come dimostrato dai risultati. Non l'Italia, ma tutta l'Eurozona, tutta l'Unione Europea, da quando ha adottato questo metodo, ha peggiorato la propria performance economica in relazione a quella degli altri poi dell'economia mondiale, un fenomeno sul quale oggi si interroga senza riuscire a spiegarselo il governatore della Banca d'Italia. Eppure la risposta è sotto ai suoi occhi ed è data da politiche di bilancio condannate a essere inadeguate, perché riferite non ai dati economici reali, ma a un concetto evanescente, arbitrario, astratto, il prodotto potenziale, cioè il livello di produzione che un'economia possa estenere senza che l'inclemento dell'attività si scarichi in aumento dei prezzi. E l'insensatezza deriva da qui. Per far contenta l'Unione Europea, ogni Paese deve assicurare la Commissione di mantenere un tasso di disoccupazione sufficientemente alto, tale da evitare pressioni sui salari. Insomma, l'Unione Europea ci chiede un cospicuo esercito industriale di riserva a garanzia del fatto che i lavoratori, dipendenti, professionisti, commercianti, piccoli imprenditori, non migliorino la loro posizione a scapito dei profitti e delle rendite finanziarie. Lo chiamano Nairu, Non Accelerating Inflation Rate of Unemployment, cioè tasso di disoccupazione che non accelera l'inflazione. Ma una rosa con un altro nome avrebbe lo stesso profumo e lo stesso vale per un cadavere come questo tipo di coordinamento economico. E allora stiamo parlando del nulla, soprattutto considerando che siamo ben al di sotto di quel tasso di inflazione del 2% che la BCE, nel suo insondabile arbitrio, ha indicato come obiettivo di stabilità dei prezzi. Combattere l'inflazione in assenza di inflazione non funziona, ma non ci stupisce da parte di chi combatte il fascismo in assenza di fascismo. Sono due metodi analoghi per fare la stessa cosa. Politiche di classe a danno degli ultimi, anzi dei penultimi, perché per gli ultimi le risorse si trovano, purché non vengano ad abitare i parioni. Noi abbiamo voluto invertire la rotta. Ci siamo riusciti? Questa è la domanda. La risposta l'abbiamo avuta dal relatore di minoranza. Due parole tombali. Fallimento e impotenza. Con queste parole il relatore ha liquidato la nostra esperienza. Motivo? L'ultima parte dell'anno precedente è stata caratterizzata da una recessione tecnica, che noi saremmo evidentemente stati impotenti ad affrontare. E mentre abbattuto da questa sentenza definitiva, me ne tornavo verso il mostudio, sorpresa, esce un'agenzia della Reuters che certifica che nel primo trimestre di quest'anno il Paese ha ricominciato a crescere, come ci ha detto poco fa il ministro Tria. E così abbiamo capito perché il PD parlava di pillon, per non parlare di pillon, perché se avesse parlato di pillon avrebbe dovuto certificare che quanto stiamo facendo già sta avendo effetti. Allora, ragioniamo un attimo sui numeri, anziché su queste previsioni che un quadro di politica particolarmente artefatto ci costringe a produrre. Presidente, desidererei che il mio intervento pacato si svolgesse in un clima. Grazie. Allora, forse a beneficio di chi ascolta, bisognerebbe spiegare ai cittadini come stanno le cose. Non è dal DEF che non è una legge ma un documento programmatico che risponde a logiche piuttosto particolari, che bisogna valutare l'azione di un governo, ma dalla legge di bilancio, che è quella che effettivamente dispone i provvedimenti e stanzia le risorse. La recessione tecnica a fine 2018 è stata l'ultima coda della pesante realità lasciataci da chi ci vuole impedire di parlare in questo momento. Poi è arrivata la nostra legge di bilancio e le cose in effetti sono cambiate. Sono cambiate, ci sono i numeri. Ci sono i numeri. Ecco, allora, tanto per essere chiari, ragioniamo sulla produzione industriale, visto che noi siamo la seconda potenza manifatturiera europea. Sapete com'è andata da luglio ad oggi la produzione industriale della Unione Europea? Ha fatto un meno 0,5%, l'area euro un meno 1,2%, la Germania un meno 4%, la Francia 2,5%, l'Italia 0,4%. E sapete cosa è successo dall'inizio di quest'anno, cioè nei mesi di gennaio e febbraio? L'Unione Europea ha fatto un 1,5%, si sta riprendendo, la Germania ha fatto meno 0,6% e l'Italia ha fatto più 2,7%. Questi sono i dati che ci dà Bloomberg e questi risultati non sono casuali. Non è perché abbiamo avuto fortuna, è perché abbiamo fatto delle cose di buonsenso. Ve ne dico solo una, solo una. Lo sblocco degli avanzi delle amministrazioni pubbliche territoriali virtuose. Un mese fa, il 15 marzo scorso, il sole 24 ore non poteva fare a meno di rilevare che la spesa effettiva per appalti pubblici era aumentata, in complesso, del 15,8% nei primi due mesi dell'anno, con un incremento che nelle regioni raggiungeva addirittura l'84,9%. Inoltre, erano anche aumentate le nuove gare, almeno quelle per opere di importo fino a 150.000 euro, dove noi abbiamo introdotto delle importanti semplifizioni normative. Ebbene, quelle erano aumentate dell'8,6%. Questi sono i risultati e non sono intenzioni, sono fatti. E su questi vogliamo essere giudicati e saremo giudicati. Un governo che ha saputo impostare una manovra anticiclica, efficace, in una fase particolarmente complessa del ciclo economico mondiale, merita la fiducia di questa maggioranza e avrà la fiducia dei cittadini. E per questo motivo dichiaro il voto favorevole del gruppo Lega Salvini Premier-Stats al documento di economia e finanza di questo governo. Grazie.